Non è possibile che ci sia sempre tutto per tutti tranne che per la nostra gente, ci siano aiuti per i rom, per i migranti, per i profughi, per i clandestini, tra un po' i veri profughi e i veri rom saranno gli italiani e i milanesi che non hanno una casa e un lavoro, quindi se dire prima la nostra gente significa essere razzisti, ebbene allora siamo contenti di essere razzisti. Innanzitutto oggi i deputati della Lega sono alla Camera dei deputati e non a casa a far regali perché il governo sta regalando centinaia di milioni di euro al Comune di Roma e ci siamo rotti le palle che tutti facciano sacrifici da Bolzano a Lampedusa e il Comune di Roma si ha sempre inondato di milioni e milioni di euro, quindi li terremo lì fino a Capodanno, sia alla Camera che al Senato. Il resto, del resto vediamo, l'ente inutile che la Lega approverà ad abolire nel 2014 sono le prefetture che non rappresentano niente e nessuno e costano un pacco di soldi e non sono eletti e Inaudi già 70 anni fa diceva essere il contrario della democrazia. Questo ha lo stesso valore dell'euro, questa è una moneta farlocca come l'euro e quindi noi ci impegneremo nel 2014 per riprenderci sovranità sulla moneta, sul lavoro, sulle pensioni, sul commercio, sugli stipendi, altrimenti gli euro che abbiamo in tasca varranno niente come i soldi del Manopoli.